Come il suo oggetto sacro, il pallone, il calcio presenta tante sfaccettature. Mimmo Caratelli, firma storica del giornalismo sportivo e l'area puia napolista, oltre che tifosa del Napoli, ne raccontano la più bella, il tifo che diventa autentica passione se rivestito d'azzurro attraverso un'affascinante ricostruzione storica che si intreccia con un'appassionata e divertente memoria dell'ultima stagione, quella dell'ingresso nella Champions League, vissuta fra la tribuna Posillipo e le dirette televisive, si raccontano le vicende di una squadra famosa nel mondo per i suoi tifosi e di come questi stessi appassionati ne abbiano seguito e sostenuto la rinascita dopo anni di disastri finanziari oltre che sportivi. È un testo che emoziona, semplicemente noi volevamo raccogliere dei ricordi per questo ritorno in Champions, comunque dopo 21 anni, quindi era un'esperienza meravigliosa, l'idea è nata dalla bellezza della musichetta della Champions, quindi al riascoltare la musichetta al San Paolo, abbiamo pensato che valesse la pena raccogliere tutte le emozioni che ci ha dato lo scorso campionato. Carratelli e Puglia testimoniano come il Napoli di De Laurentiis, Mazzarri e Cavani rappresenti, oggi uno spiraglio per una città che lotta disperatamente contro un declino che appare irreversibile. Il San Paolo divene quindi la fucina di un nuovo vigore, di una rinnovata passione che spinge i napoletani ad immaginare e non solo sognare un futuro diverso, un futuro da campioni. Tutto questo è o evita mia, edizioni, cento autori, collana, colpi di testa.